Entrerà nel Viva, fino agosto, la seconda parte del cartellone estivo delle cene concerto all'hotel Cavallini date da ristorante Montebrullo. Concerti durante i quali vari ospiti scambieranno con il pubblico in sala impressioni, aneddoti e retroscena della loro lunga carriera musicale. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da Orietta Berti, i ribelli, i faustoleali e i nomadi, gli ospiti dal 28 agosto in poi saranno Maurizio Vandelli, Shell Shapiro, Pupo e il Gallo Tima. Nel cartellone che abbiamo presentato abbiamo anche gli ultimi tre eventi a Montebrullo che vengono organizzati da scambio insieme alla Casa della Musica. Il 28 agosto c'è una doppia da non perdere assolutamente, insieme per la prima volta a Faenza, Shell Sapiro e Maurizio Vandelli c'è la storia del beat italiano. Il 28 di agosto, sempre dalle ore 20, il 4 settembre torna il Gallo Team col grande Cicci Bagnoli, storico chitarrista vaschiano, insieme a Gallo Gollinelli, bassista di Vasco Rossi, ma poi l'11 si chiude alla grande con il ritorno di Pupo. Tra gli eventi off si sta pensando a una presenza speciale come guest di Bobby Soli in occasione del mail la prima settimana di ottobre. Concerti che continuano ad andare molto bene, 400-600 persone a seconda degli ospiti in sala. Esatto, c'è una media attorno ai 500 presenze, con delle punte, con i nomadi che sono oramai una presenza eccezionale, con i quali abbiamo fatto anche una tappa di giovani talenti della terra di Romagna come scouting, un progetto che come me stiamo facendo insieme alla regione Emilia Romagna che produrrà alcuni giovani artisti.